Albano si confessa su Romina Power. Noi stiamo insieme. Albano è intervenuto nella trasmissione condotta da Caterina Balivo, vieni da me. Per l'occasione, il cantante si è confessato circa il suo rapporto con l'ex moglie Romina Power, e ha dichiarato, ma noi due stiamo insieme. L'affermazione ha infiammato subito il pubblico e i fan della coppia sono tornati a sperare. Non sono vere allora le voci che vorrebbero la star italo-americana innamorata e fidanzata con un ricco uomo americano? Non ne abbiamo ancora conferma ma sembra che i rapporti tra la Power e Albano siano distesi, nessun gelo tra di loro. Albano ha poi rivelato, ma noi stiamo insieme. Cantiamo insieme, abbiamo avuto dei figli insieme. L'unica difficoltà è la distanza. Lei vive in America e io in Italia. Questa è la differenza, ha concluso. E sulla fine del loro amore ha detto. Perché ci siamo lasciati? E, lunga, poi si apre la pagina del gossip e a me il gossip fa schifo. Al cantante non è mai piaciuto il gossip. Anzi tempo fa sul settimanale e sono ha rivelato che è stanco di tutti i pettegolezzi intorno alla sua famiglia volendo proteggere in particolare i suoi figli. Crystal, Romina, Jasmine e Bido, ma anche la memoria della figlia scomparsa Ilenia. Romina ora si trova in America. Come attestano alcuni scatti pubblicati da lei sul suo profilo Instagram. Uno in particolare è piaciuto agli utenti del social. Immortalata accanto alla figlia Romina Junior, la Power si mostra sorridente e felice. Romina Power, è un'artista apprezzatissima dal pubblico. Il successo tra i follower è dovuto anche al fatto che l'artista pubblica spesso sui suoi profili social, foto in compagnia della sua famiglia, l'ultimo scatto con la figlia colpisce i fan. La cantante italo-statunitense è amata da tutte le generazioni. I suoi post su Instagram, ottengono sempre milioni di like. Nell'ultima immagine Romina Power, appare in compagnia della figlia Romina Carrisi, l'ultimo genita avuta dal lunghissimo matrimonio con il cantante pugliese Albano. Madre e figlia, si sono fatte immortalare in modo molto curioso e originale, durante un party a Malibu in California. La cantante dopo essere tornata in Italia per qualche settimana, ha infatti ripreso il volo per l'America, in compagnia di Romina Junior. L'allegria e l'ironia di Romina Power, sono estremamente evidenti in questa foto. Le due donne tra Corone Reali e Boa, si sono fatte immortalare in compagnia di una donna mascherata. Ma quel check in mano alla cantante, potrebbe far pensare a nuovi progetti cinematografici ai fan dell'artista, che sicuramente gioirebbero se fosse vero. Ma in questo momento, la foto ci dice solo che Romina si sta divertendo e nient'altro. Se anche Romina Power come l'ex marito Albano tornerà a recitare, non è un dato certo. Magari i due artisti ci riserveranno nuove sorprese. Albano, è stato protagonista della terza puntata di Domenica in, andata in onda domenica 30 settembre su Rai 1. Durante l'intervista il cantante ha parlato dell'ex moglie, Romina Power, facendo una dichiarazione romantica, asserendo, con Romina speravo non finisse mai. Nel salotto di Mara Venier, il cantante di Cellino San Marco, ha attraversato tutti i momenti che hanno caratterizzato la sua vita professionale, ma non solo, la signora della Domenica, infatti non si è lasciata sfuggire qualche domanda più profonda legata alla vita sentimentale dell'artista. E nonostante Albano abbia cercato di glissare alla domanda se fosse fidanzato o meno, rispondendo, se sono single. Che te frega! I riferimenti alla compagna di 30 anni di vita non sono mancati. Albano Carrisi, non ricorda con imbarazzo i momenti che lo hanno legato a Romina Power, le sue parole sono velate piuttosto da un triste rammarico per la fine della storia. E tra la commozione racconta a Mara Venier. All'inizio non mi aveva colpito riferendosi a Romina mi sono innamorato di lei vedendola lavorare a maglia, scrivere, stare in disparte sul set. E con un percepibile dispiacere il cantante pugliese prosegue il suo racconto, confessando, avrei voluto un amore come quello dei miei genitori. Con Romina dopo 30 anni insieme, pensavo che sarei rimasto tutta la vita. Invece è andata male. Infine fa un riferimento alla ex compagna Loredana Lecciso, con la quale dopo Romina, il cantate di Cellino San Marco è stato legato per 18 anni. In riferimento alla showgirl Salentina, Albano ha affermato di aver recuperato i rapporti, ma solo in amicizia. E Romina? Sono in buoni rapporti, ma pare che non ci siano ritorni di fiamma. Almeno per il momento.